Emma Marrone narcotizzata e derubata, nella villa presa in affitto a Ibiza per le vacanze estive, dopo una serata in discoteca. L'indomani, al risveglio, Emma e le due amiche si sono sentite frastornate. È stata una doccia fredda, quando le ragazze si sono rese conto, di essere state derubate, di contanti e alcuni oggetti di valore e, per agire indisturbati, i ladri hanno narcotizzato le tre inquiline. Sotto shock, la Marrone avrebbe confidato a persona a lei vicine, che non ha alcuna intenzione di tornare più sull'isola. Emma, infatti, ha immediatamente lasciato Ibiza, anticipando il volo di rientro.